In una stagione già così deludente, se possibile, questa è stata la delusione più forte. La delusione più forte è perché si aveva avuto almeno la speranza e non la certezza che con l'avvento di Iachini, le due vittorie senza giocare bene contro Lecco e Ferralpi Salò, la squadra potesse finalmente cambiare il registro. Invece, punto e a capo, se possibile, anche peggio del solito, perché la sconfitta contro su Tirol è stata veramente una brutta sconfitta, 90 minuti senza mai tirare in porta. Questo cosa vuol dire? In qualche modo l'aveva fatto capire anche Iachini, sì, la grinta, la determinazione, sì, ma poi bisogna giocare da squadra. Oggi non c'erano né grinta né determinazione e non c'era neanche la squadra. In fin dei conti niente di nuovo sotto il cielo, perché fuori casa in particolare di partite così brutte ne avevamo già viste, ma questa fa molto male. La sensazione è che oggi capiamo che anche aggrapparci a Iachini potrebbe essere una finta speranza.